Continuano a calare in Sicilia i numeri di positiva al Covid-19. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 480 nuovi contagiati, ieri erano stati 484, su 24.744 tamponi eseguiti tra testi rapidi e molecolari. Il tasso di contagiosità è sceso, sebbene di poco, sotto il 2%. Ancora significativo però il numero dei decessi, che sono stati 26, che hanno fatto salire il numero complessivo di morti dall'inizio della pandemia a 3.941. Rispetto a ieri ci sono stati altri 1.105 guariti. Confortante anche la situazione relativa alla pressione sugli ospedali. Oggi in degenza ordinaria ci sono 930 posti letto occupati, 31 meno di ieri, mentre sono scese di 9. Le terapie intensive e oggi posti letto occupati nelle rianimazioni sono 145, ancorché con 6 nuovi ricoverati. Situazione complessiva che dunque conferma una curva epidemiologica nella nostra isola nettamente in discesa.